L'obiettivo è chiaro, coinvolgere il maggior numero di persone per contrastare la perdita, sia da un punto di vista economico-produttivo che storico-culturale, del patrimonio olivicolo. Una risorsa troppo importante per questo territorio. Torna a Termoli la camminata tra gli olivi organizzata a livello nazionale della città dell'olio. Un appuntamento, quello del 27 ottobre, promosso dal Ministero dell'Ambiente, organizzato in collaborazione con il comune di Termoli, UMPLI, Fondazione Italiana Fegato, Lilt Campobasso, Kairos, Proloco, Termoli, Punto di Valore, Tenute Terra Sacra e Istituto Alberghiero e Liceo Artistico. Un appuntamento importante, quest'anno l'abbiamo arricchito con un aspetto altamente culturale, quindi ho voluto mettere insieme un po' tutte quelle che sono quella che è la cultura del nostro territorio, insieme e immerso nella natura. Quindi è anche un po' una scommessa, insomma, perché mettere insieme l'arte, la scultura, la pittura, l'enogastronomia, le tecniche di respirazione, la croce rossa, la Lilt, la musica, chiaramente coronato tutto in finale con la musica. Un programma ricco di eventi. La camminata tra gli olivi prevede una passeggiata di due chilometri all'interno del parco dell'alberghiero. Il primo percorso sarà dedicato alla Lilt e l'olio evo con la promozione della salute. Non mancherà un percorso di lettura e racconti, con l'olivo e l'olio tramiti, leggende e letteratura, e poi una lezione sull'arte a cura di Legna Palladino. Nicola Malorni invece si occuperà dell'esperienza di meditazione. Dulcis in fundo, un momento musicale con i maestri Basso Cannarse e Gianluca Delena. La manifestazione si svolge in 17 regioni e sono 168 le città coinvolte. È un'iniziativa che mira quindi ad unire benessere fisico, cultura locale e ovviamente anche tradizione culinaria, accostata ovviamente alla produzione di olio locale. È un'iniziativa a 360 gradi che si rivolge un po' a tutti, che vede un grandissimo coinvolgimento anno per anno di tutte le forme di associazionismo locale, delle istituzioni scolastiche. Quindi un grandissimo coinvolgimento e anche quest'anno mira quindi ad essere un appuntamento importante e di grande gradimento.